Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Risponde all'uomo che le ha chiesto di coprirsi durante l'allattamento al seno del suo bambino. Perché è così scioccante per le persone vedere una madre che allatta suo figlio in pubblico? Per alcuni, assistere a questo tipo di atto è scomodo, motivo per cui alcune madri evitano qualcosa di così naturale, rendendo questa azione comune un tabù. Rompendo con questi paradigmi, una donna dà la risposta migliore, quando gli viene chiesto di coprirsi quando allatta in pubblico. Melanie Dudley, è una donna di 34 anni del Texas, Stati Uniti, madre di due gemelli di 4 anni e un bambino di 4 mesi. L'intera famiglia si è recata in Messico per godersi una vacanza, e nel bel mezzo di uno dei suoi giorni liberi, un uomo la offesa facendole capire che non le faceva piacere vederla allattare il suo giovane figlio. La famiglia stava cenando in un ristorante vicino alla spiaggia di Capo San Lucas, in un luogo dove il caldo e l'umidità erano insopportabili. Dopo cena seduta in terrazza, la madre si preparò ad allattare il suo bambino quando un uomo sconosciuto si avvicinò al tavolo di famiglia, solo per esprimere deliberatamente a Melanie che non gli piaceva vederla allattare suo figlio, che era una copertura. La madre, offesa dalla richiesta, chiese al marito di passarle una coperta e diede allo sconosciuto la risposta migliore di tutte. Dudley si coprì, a modo suo. Con la coperta che le aveva fornito suo marito, si coprì il viso e continuò a nutrire suo figlio in pubblico. Tutte le persone intorno a lui sono rimaste sorprese dalla sua reazione e subito sua suocera, Kitty Iannone. Ha scattato una foto del momento. L'immagine mostra chiaramente la madre che allatta il suo bambino al ristorante con uno dei suoi figli più grandi. L'ambiente era come 35 gradi, era molto umido e faceva molto caldo. La mia schiena era rivolta al ristorante. Per questo sono rimasta senza parole quando l'uomo mi ha chiesto di coprirmi. Quindi mi sono coperta la testa come un gesto sarcastico, ha commentato Melanie. La fotografia è stata condivisa sul profilo Facebook di Karon Lockwood, un'amica di famiglia, trasformando l'immagine in un fenomeno virale. Finora, la foto ha più di 75.000 mi piace, 19.000 commenti e 200.000 condivisioni. A causa della popolarità che Dudley ha guadagnato con l'immagine, ha cercato di rendere le altre persone consapevoli di questo atto in modo così naturale, Che nessuna madre dovrebbe essere timida nel fare qualcosa di così comune. Continua a fare ciò che ritieni sia meglio per te e i tuoi bambini. Penso che il messaggio più grande sia quello di sostenere le madri che allattano, indipendentemente dal fatto che scelgano di coprire o meno, ha detto Dudley. Una donna che segue l'esempio di Melanie per sensibilizzare il pubblico sulla normalità dell'allattamento al seno. L'allattamento al seno in pubblico non dovrebbe essere un tabù, anzi, dovrebbe essere considerato un atto bello e naturale per ogni essere umano. Condividi questa notizia con i tuoi amici e aiuta a diffondere il messaggio di questa madre. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.